e darò solo una leggera, brevissima introduzione solo per dirvi che abbiamo collaborato con Banca Etica per approfondire in questo incontro le tematiche legate alla finanza e ai combustibili fossili e tra poco quindi lascerò la parola ai relatori e alle relatrici dato che stiamo registrando e siamo in diretta se non avete piacere di comparire nel video potete disattivare il video spero che siete tutti e tutti abituati a usare il zoom e vi chiedo anche di disattivare i microfoni per evitare ritorni e rubori di fondo per quanto riguarda le domande potete scriverle in chat comunque abbiamo previsto un momento finale dedicato proprio alle domande quindi magari potete segnarle e poi ne parleremo tutti insieme alla fine quindi spero che siano collegati più o meno tutti buonasera mi fa piacere che ci siano tante persone lascio la parola quindi a Marco Gallicani che ci farà una presentazione di Banca Etica sì buonasera a tutte e a tutti una presentazione di Banca Etica è un po' complicata in pochissimi minuti Banca Etica è una banca lo dice il nome con un'aggettivazione molto forte nasce dal basso con quello che potremmo chiamare un equity crowdfunding prima che esistesse l'equity crowdfunding abbiamo cominciato a raccogliere il capitale sociale nella Pesca degli anni 90 e abbiamo ricevuto l'autorizzazione ad operare come banca nel 1999 quindi sono già 22 anni che operiamo sul mercato italiano e da qualche anno anche in quello spagnolo grazie a una partnership stretta e societaria proprio con quella che si chiama Fiare Banca Etica che si occupa di finanza etica in Spagna e cosa fa Banca Etica? Banca Etica fa la banca e quindi raccoglie denaro lo gestisce e poi lo presta raccoglie e gestisce e presta il denaro però attraverso una lente valoriale che è quella della finanza etica un movimento nato a metà degli anni 70 in Italia che però ha radici lontane che non stiamo qui a sviluppare perché ci vorrebbe molto tempo si tratta fondamentalmente di cercare di capire come la finanza può essere al servizio dell'economia reale per fare questo Banca Etica lavora con trasparenza, partecipazione ed equità e soprattutto con sobrietà che è una cosa che insomma nel mondo delle banche vabbè in realtà tutti questi aggettivi nel mondo delle banche sono abbastanza tutte queste caratteristiche nel mondo delle banche sono abbastanza rare direi che forse l'unica che davvero le incana tutte è Banca Etica trasparenza significa che tutto quello che viene raccolto impiegato da Banca Etica ha un nome e un cognome pubblicato sul sito internet che è bancaetica.it partecipazione vuol dire che le grandi scelte che la banca opera da un punto di vista politico ovviamente non da un punto di vista pratico quotidiano vengono decise dai soci che sono i proprietari della banca perché la banca è una cooperativa che fa le proprie assemblee gestisce i propri gruppi di volontari perché è l'unica banca in Europa che ha anche dei volontari che portano avanti la sua azione culturale che ha una fondazione che ha una società di gestione del risparmio e che fa fondamentalmente queste cose le fa appunto attraverso le scelte dei soci tutte queste nuove società sono andate per volere dei soci ma molto più banalmente restando più sul quotidiano che potrebbe interessare a voi quando bancaetica decise di sostenere l'azione di una coalizione di ONG che si chiama Mediterranea per salvare le vite dei migranti nel Mediterraneo lo fece attraverso una delibera dell'assemblea che votò a maggioranza questa scelta è quindi una cooperativa che lavora con trasparenza partecipazione e sobrietà gli stipendi dei dirigenti sono parametrati a quelli dei dipendenti dei collaboratori come me e ha tanti altri strumenti di garanzia etica che insomma adesso star qui veramente a elencare tutti sarebbe complicato l'unica cosa che posso dire è che insomma bancaetica è lì per essere scoperta ecco le porte di bancaetica non sono soltanto aperte sono spalancate e dentro c'è gente che ha voglia di collaborare per fare in modo che la finanza torni a essere uno strumento per l'economia reale e non un meccanismo quasi diabolico per la creazione di denaro dal denaro che è poi quello che succede in questo momento ne parleremo anche stasera credo che poi le presentazioni dei relatori le farà Daniele però sostanzialmente il motivo per cui siamo qui è perché in tutto il dibattito che ruota attorno alla grandissima emergenza del cambiamento climatico le banche hanno un ruolo la finanza internazionale le banche anche locali hanno un ruolo che però hanno una responsabilità che però raramente si assumono anzi cercano di di scaricare addosso a qualcun altro e questo è una cosa che bancaetica non fa perché appunto tra le cose che fa con trasparenza equità e sobrietà c'è quella di dare soldi soltanto a iniziative che abbiano un impatto positivo sull'ambiente e sulle persone sull'ambiente e sulle persone perché l'ambiente senza le persone serve a c'era già prima dell'uomo ecco e delle donne e quindi insomma la presentazione di bancaetica la miglior presentazione che bancaetica può fare di se stessa è aprendovi le porte e facendovi entrare all'interno della propria dei gruppi gruppi di soci e dei propri clienti perché poi anche i clienti in bancaetica hanno un ruolo determinante all'interno della gestione del risparmio e basta questa è bancaetica gli altri redattori davvero poi li presenta Daniele grazie Marco e lascerei allora la parola a Naida che ci farà una presentazione di Stinchia Rebellion non ho detto all'inizio che questo questo incontro un po' la prima prima occasione opportunità per mettere mettere in contatto due realtà che hanno molti punti in comune secondo me che sono proprio questa banca un po' particolare il movimento Extinction Rebellion per cui abbiamo pensato di fare queste due presentazioni perché probabilmente qua ci sono persone collegate che arrivano dai canali legati più alla magari l'economia solidale alla finanza etica e altre persone invece più legate al movimento Extinction Rebellion così ci presentiamo un po' vicini quindi lascio la parola a Naida grazie mille Daniele buonasera a tutti a tutti e tutti io mi chiamo Naida e faccio parte del movimento Extinction Rebellion oggi ho l'onore di fare un po' da portavoce in una presentazione brevissima mi prenderò tutti i dieci minuti che Marco è stato più più bravo di me ma io me li prenderò me li prenderò tutti allora Extinction Rebellion è un lo chiamerò anche XR perché è il nome che usiamo anche per abbreviare un po' è un movimento politico e sociale naturalmente è stampo ecologista cioè parte dalla crisi climatica ed ecologica e propone di ribellarsi da qui anche il nome che in inglese Extinction or Rebellion ci sarebbe una O quindi è una scelta una domanda che ci si pone e si sceglie di ribellarsi all'estensione il movimento nasce in in Inghilterra nel 2018 un anno cruciale per tutti i movimenti è l'anno in cui Greta Thunberg inizia i soperi del clima che poi porteranno alle piazze oceaniche dei Fridays for Future domani tra l'altro c'è il loro sopero è l'anno in cui l'IPCC è esso con quel report agghiacciante mi senti allora scusate sì ok esce con quel report agghiacciante che dice appunto abbiamo solo 12 anni per salvare il pianeta e il movimento nasce a ottobre già a novembre organizza una mobilitazione che è abbastanza massiccia ferma i cinque portanti principali di Londra e nel 2019 irrompe per poi diventare movimento internazionale in una maniera assolutamente dirompente con la ribellione di aprile del 2019 una settimana di mobilitazione che mostra al mondo sicuramente anglosassone ciò di cui è capace sono capaci gli uomini e le donne che fanno parte del movimento poi parlerò meglio di cos'è una ribellione è il momento ecco talmente dirompente che suscita sostegno e simpatia anche di grandi nomi di intellettuali scrittrici come Margaret Atwood Amita Bosch attori come Joaquin Phoenix o Keira Knightley per citare soltanto appunto nomi un po' più pop nonché giornalisti intellettuali eccetera e si diffonde in tutti i continenti abitati tanto che adesso esistono più di mille ed è in continua espansione esistono più di mille in giro per il mondo dunque il punto da cui partì il movimento è la crisi climatico e ecologica di cui riconosce l'immensa gravità dando anche un po' voce e facendosi megafono rispetto alla comunità scientifica di questa gravità parla da anni la denuncia da anni da decenni anzi pressoché inascoltata comunità scientifica in un caso l'ha definita la più grande minaccia esistenziale che l'umanità abbia mai fronteggiato da quando esiste l'umanità quando è comparsa sul pianeta il movimento riconosce la portata della crisi la connetti alla parola estinzione estinzione che è già in atto perché gli sensati parlano della stessa estinzione di massa di specie viventi quella dell'uomo diciamo è uno scenario possibile può sembrare catastrofista ma l'estinzione è già in atto appunto per molte specie viventi che compongono la biodiversità che non solo è meravigliosa ma anche necessaria per la nostra sopravvivenza e però riconosce anche la natura sistemica della crisi quindi le sue correlazioni sociali di giustizia quello di cui un po' parlava Marco prima riconosce alla base di questa crisi un modello di sviluppo e di consumo impossibili da perseguire non soltanto per etica e per senso morale appunto ma per matematica perché una crescita infinita in un pianeta finito non può esistere matematicamente una natura sistemica questa crisi cioè il riconoscimento di questa natura sistemica passa molto dal concetto di cui avrete sentito moltissimo di giustizia climatica appunto di una lotta anche per la giustizia climatica tutto questo una natura sistemica della crisi ai collassi sociali che questa crisi porterebbe il tentennamento della tenuta stessa delle democrazie guerre carestie cose che già avvengono in alcune parti del mondo nonché pandemie ciò che stiamo vivendo è un chiaro segno di quello che il collasso climatico e ecologico porta con sé a tutto questo noi ci ribelliamo perché appunto non c'è più tempo lo dice anche il nostro simbolo tra poco vi faccio vedere proprio tre quattro immagini per farvi un po' rendere più conto di cos'è tramite Extinction Rebellion tramite le immagini il nostro simbolo è un cerchio del mondo con una clessidra iscritta in esso ci ribelliamo come? ecco ci ribelliamo cercando di innescare una mobilitazione dal basso una mobilitazione che sia sempre più di massa e ci ribelliamo attraverso pratiche di disobbedienza civile non violenta e azioni dirette non violente da questo punto di vista xr impara studia dalla storia e dalle scienze sociali la disobbedienza civile non l'ha inventata xr l'ha appresa dal novecento e dal novecento appreso anche da studi di scienze sociali che la disobbedienza civile funziona in molti più casi di rivoluzioni perché funziona ed è necessaria anche adesso perché è quella che storicamente statisticamente ha portato dei cambiamenti radicali in un tempo breve ed è quello di cui abbiamo bisogno si impara da Gandhi ai movimenti per i diritti civili negli Stati Uniti alle suffragette che appunto in poco tempo portarono cambiamenti radicali nella cultura ma anche nel sistema il movimento quindi propone queste azioni dirette non violente che sono caratterizzate da disturbo quindi da rottura perché disobbedienza civile è anche rottura rispetto alla quotidianità appunto del sistema ma anche da un enorme impatto creativo colorato distruttivo artistico e quindi anche emotivo spesso le componenti quella di disturbo diciamo di rottura e quella creativa vanno insieme nelle nostre azioni anzi sono interconnessi e le azioni si fanno esistono tantissimi gruppi io sono del gruppo di Palermo per esempio mi sento parte dell'Extinction Rebellion del movimento italiano ma faccio parte del gruppo di Palermo esistono tanti gruppi che fanno azioni ogni volta possono ma poi ci si concentra in ondate di ribellioni vi parlavo prima della ribellione di aprile a Londra ce n'è stata una poi internazionale in ottobre 2019 la pandemia ci ha messo un po' in ginocchio come tutti i movimenti ma nell'ottobre del 2020 abbiamo fatto un'ondata di mobilitazione il movimento agisce quindi attraverso queste ondate di grandi azioni che si concentrano tendenzialmente si concentrano nella capitale comunque almeno si concentrano temporalmente e ha fondamentalmente come diciamo fari le tre richieste principali che sono dire la verità una richiesta che si fa ai governi in cui si intende anche dire la vera verità cioè comunicare l'entità della crisi comunicarne appunto la natura sistemica eccetera la seconda richiesta è quella di intraprendere azioni immediate per invertire questa rotta distruttiva in cui stiamo galoppando per cui stiamo galoppando verso il bar tra e la terza è quella di democratizzare quanto più possibile questo processo il processo di cambiamento che sarà inevitabile perché le azioni prima o poi verranno intraprese per salvarci diciamo più o meno ma intraprendere questo processo in maniera ancora più democratica democratizzare il processo attraverso le istituzioni di assemblee di cittadini e cittadini sull'esempio di tantissimi modelli già sperimentati anche nel mondo in Inghilterra in Francia eccetera che deliberino a proposito di queste decisioni da intraprendere per sulla crisi climatica ed ecologica e tornando alla ribellione un po' anche al motivo per cui siamo qua insieme la prima ondata di ribellione cioè la prima la prima azione diffusa dell'ondata di ribellione venti e vento duemila e ventuno si concentrerà sulla sulla finanza fossile sul tema della finanza fossile il duemila e ventuno è un anno cruciale per tutto il mondo per l'Europa con il recovery fund in tutto il mondo si lotta ancora la pandemia ci sarà il G20 ospitato in Italia ci sarà la COP26 in cui l'Italia ospiterà la Pre-Cop insomma ci sarà un anno cruciale in cui non è ammissibile per noi non mobilitarsi la prima ondata di mobilitazione sarà il il primo aprile e avrà come tema la finanza fossile io non so se ho sforato troppo non ho controllato il mio orologio ho già sforato Daniele vedo che passi un po' un po' sì un po' e vabbè non ho troppo la sicurezza comunque è davvero difficile se riesce a stringere ancora io ho finito volevo capire solo se ho proprio tre secondi per mostrare le quattro immagini anche là una selezione difficilissima da fare perché comunque basta che googlate Extinction Rebellion trovate immagini di manifestazioni e azioni spettacolari io vi faccio vedere semplicemente allora vediamo un poco se riesco riuscite a vedere il mio schermo o no? niente non ci riesco non so perché niente vabbè se ci riesco più tardi casomai erano semplicemente immagini che possono sicuramente motivare ancora più delle mie parole a unirsi al movimento ripasso questo punto invece la parola a Daniele credo grazie a Vago che dovrebbe moderare il prossimo spazio dedicato agli esperti se mi aiuta a introdurre queste due persone che parleranno del tema specifico di questa serata quindi entriamo sul tema economico e della finanza legato ai combustibili fossili grazie Daniele grazie Naida che mi è prescruta e anche Marco e grazie a tutti di essere collegati questa sera io sono Claudia Vago lavoro per Fondazione Finanza Etica che è la fondazione culturale promossa da Banca Etica e Etica SGR e questa sera mi occupo nello specifico per fondazione di Valori.it che è un lab editoriale del gruppo Banca Etica e questa sera vi faccio incontrare Andrea Barolini che scrive per Valori.it è un giornalista e scrive di Ambiente Clima e Finanza e Andrea Barane che è il vicepresidente di Banca Etica io partirei per fare un po' un quadro che già un pochino è stato fatto anche da Naida però un po' del dove siamo sul clima insomma dopo l'accordo di Parigi 2015 gli stati del mondo prendono un impegno che ne è di questo impegno che cos'è successo finora quali sono le tappe che ci aspettano ora Naida accennato al fatto che la COP26 di Glasgow che avrebbe dovuto tenersi a fine 2020 è stata rimandata a fine 2021 per via della pandemia che cosa succederà alla COP26 e che cosa dobbiamo sperare che succeda Andrea Barolini Buonasera a tutti grazie grazie intanto a chi ha organizzato questo evento per la possibilità l'opportunità spero che mi sentiate bene dunque a che punto siamo? siamo a un punto che da parecchio tempo è un punto di difficoltà in qualche maniera perché quello che c'è stato nel 2015 alla COP21 di Parigi è stato un sussulto da parte della comunità internazionale che ha consentito di raggiungere l'accordo stesso che ha dato un impianto un obiettivo in particolare ha detto che la comunità internazionale deve lavorare per limitare la crescita della temperatura media globale sulla superficie delle terre emerse e degli oceani ed un massimo di 2 gradi centigradi e poi ha aggiunto ma lì a Parigi io c'ero e ricordo bene che fu molto difficile introdurre questa postilla postilla fondamentale ma dobbiamo rimanere il più possibile vicini agli 1,5 gradi centigradi perché perché sempre alla COP 21 di Parigi gli stati che parteciparono dissero cari scienziati diteci che differenza c'è tra 1,5 gradi e 2 gradi visto che dobbiamo fare questo sforzo per arrivare fino a 1,5 gradi e a chi l'hanno chiesto l'hanno chiesto a un gruppo di esperti che si chiama IPCC che è il gruppo di esperti delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e questo gruppo di esperti ha prodotto un documento alcuni anni dopo è stato pubblicato che si chiama Special Report 1.5 che dà tutta una serie di differenze che cosa cambierebbe appunto tra 1,5 e 2 gradi si può pensare che mezzo grado sia pochissimo invece io immagino che già tanti delle persone che stanno qui sono coscienti del fatto che cambia tantissimo ma a volte degli esempi concreti sono utili e in questo rapporto viene spiegato ad esempio che a 1,5 gradi noi dovremo attenderci un evento come lo scioglimento completo dei ghiacci artici quindi tutta la calotta artica in estate completamente sciolta una volta ogni secolo che già comunque non è poco a 2 gradi potremo attenderci lo stesso fenomeno una volta ogni decennio quindi questa è la differenza abissale ci sono mille esempi che vengono proposti da questo rapporto e questa è la differenza abissale quindi 1,5 è il nostro obiettivo a quanto siamo e siamo già molto vicini a 1,2 abbiamo superato il grado già da tempo e dicevo che l'impianto che è stato dato alla COP21 è come una costituzione è come la costituzione dice da dei principi enuncia dei principi e poi ci vogliono le leggi per poterla applicare concretamente questa costituzione e le leggi sono state attese alle COP successive alle conferenze delle Nazioni Unite successive alla COP successiva di Marrakesh è stata una COP sostanzialmente interlocutoria si sono fatti dei passi avanti piuttosto relativi la COP di Bonn altrettanto è stata una COP abbastanza interlocutoria era il 2017 era la COP 23 e poi si è arrivati alla COP 24 a Katowice in Polonia la Polonia è una delle nazioni che basa ancora gran parte della propria produzione di energia e quindi del proprio sistema economico sul carbone esattamente come fa anche la Germania ancora adesso rispetto a rispetto a ad altre nazioni dell'Unione Europea ebbene non so quanti di voi siano mai stati a una COP ma la COP è divisa sostanzialmente in due parti con questa enorme conferenza con 20.000 persone nella quale da una parte ci sono tutte le sale nelle quali lavorano poi le piccole salette nelle quali ci sono le delegazioni delle varie nazioni e poi c'è una grande area che è una specie di Kermess ci sono dei padiglioni e ciascuna nazione affitta uno spazio all'interno del quale in qualche modo fa pubblicità anche alle cose che ha fatto di buono per contenere le emissioni di gas ad effetto serra clima alteranti eccetera ebbene la Polonia che era la nazione ospitante ovviamente aveva il suo padiglione entrando nel padiglione della nazione ospitante alla COP24 di Katowice c'erano delle griglie di metallo in fondo a tutte le pareti e a terra anziché il pavimento c'erano dei grossi dei grossi vetri dei grossi delle grosse pavimenti di vetro e sotto e dietro alle gabbie c'era il carbone perché loro si sono presentati alla COP24 dicendo per noi il carbone è fondamentale per uscire dalla crisi climatica quindi anche la COP24 grande difficoltà si arriva alla COP25 sotto la presidenza del Cile ma che si tiene a Madrid in Spagna per le difficoltà che c'erano state in Cile dal punto di vista della rivolta che c'era stata proprio in quei mesi precedenti e la COP25 si traduce in un fallimento totale perché è stato un grave fallimento soprattutto quello della COP25 perché e con questo concludo il cappello in approccio alla COP21 di Parigi nel 2015 le Nazioni Unite chiesero ai governi di tutto il mondo di presentare dei documenti questi documenti si chiamano NDC non sono nient'altro che dei PDF nei quali ciascun governo ha dettagliato quello che vuole fare concretamente per ridurre le emissioni di CO2 ora la difficoltà è stata che ciascun governo ha scritto quello che voleva e tra l'altro questo fu fatto apposta nel senso che le Nazioni Unite si chiesero ma che facciamo diamo un documento uguale a tutti quanti con una griglia di riempire si pensò che sarebbe stato avrebbe un po' bloccato soprattutto alcuni governi quindi si disse ciascun governo ci dica che cosa ritiene di fare per diminuire le emissioni di gas ad effetto Serna il calcolo di queste promesse di riduzione delle emissioni è stato fatto e ci sono voluti anche qui degli anni in realtà alcune organizzazioni non governative l'hanno già fatto prima lo stesso governo di Parigi in approccio alla COP21 il governo di Parigi il governo della Francia aveva detto dice attenzione perché con queste sforiamo ebbene secondo il rapporto dell'UNEP quindi l'Agenzia delle Nazioni Unite per l'Ambiente con queste promesse andremo a 3,2 gradi centigradi di aumento della temperatura medio globale alla fine del secolo rispetto ai livelli preindustriali 3,2 gradi a condizioni che vengano rispettate tutte queste promesse che non è affatto detto che vengano rispettate quindi che è successo che le Nazioni Unite hanno detto ai governi rifate i compiti a casa cortesemente perché quelli che avete fatto non sono affatto sufficienti a fianco a questo a fianco a questo queste promesse diciamo questi NDC dovevano essere portati consegnati all'UNF tra Polsi quindi alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici entro il 31 dicembre di quest'anno dell'anno scorso quello appena passato soltanto 75 nazioni di tutto il mondo l'hanno fatto e tra quelle che non l'hanno fatto ci sono gli Stati Uniti che d'accordo erano di Trump adesso è arrivato Biden quindi potrebbe darsi ci sia una svolta anche abbastanza rapida anche perché sono rientrati nell'accordo di Parigi erano gli unici che erano usciti non c'è la Russia non c'è l'India non c'è la Cina non c'è l'Australia non ci sono le nazioni che inquinano di più al mondo quindi ci ritroviamo a lavorare a marzo siamo e dobbiamo arrivare alla COP che si terrà alla fine dell'anno a Glasgow in una situazione nella quale c'è un bel pezzo del pianeta che non ha da parte del pianeta politico che non ha fatto quello che doveva fare ancora e dall'altra parte e qui introduciamo l'altro problema abbiamo un mondo economico e finanziario che continua a pompare liquidità e denaro nelle aziende che continuano a sfruttare le fonti fossili e che quindi continuano ad alimentare i cambiamenti climatici e le cifre io non so se adesso forse come cappello posso fermarmi e magari lasciare la parola ad Andrea Baranes sulla parte un po' di introduttiva della finanza e però poi le cifre sono pazzesche ne do una sola e poi lascio la parola ad Andrea le 35 tra le più grandi banche del mondo e stiamo parlando solo delle banche poi ci sono i fondi investimento compagni di assicurazione 35 tra le più grandi banche del mondo tra il 2016 e il 2019 quindi negli anni successivi alla coppa di Parigi successivi all'accordo di Parigi quando già la scienza ci aveva spiegato tutto ci avevano detto tutto quello che c'era da sapere sul problema dei cambiamenti climatici hanno concesso alle compagnie alle grandi compagnie che si occupano che fossili che sfruttano a vario titolo le energie fossili la bellezza di 2700 miliardi di dollari in quattro anni 2700 miliardi di dollari basta pensare che una manovra economica anche bella corposa di una nazione non da poco come l'Italia è di 30 35 40 45 miliardi ecco loro ne hanno dati 2700 miliardi e parliamo soltanto delle banche questa bella notizia quindi sappiamo che bisognerebbe smettere di finanziare le fonti fossili ma allora Andrea Baranes perché non si fa cos'è che impedisce di farlo non si fa perché riprendo qualcosa che è stato detto nell'introduzione intanto buonasera a tutti e a tutti e grazie anche da parte mia per questa opportunità di confronto non si fa perché in massima parte la finanza non fa più quello che dovrebbe fare la finanza dovrebbe essere uno strumento lo ricordava Marco nella breve introduzione su Banca Etica uno strumento al servizio delle persone dell'economia oggi la finanza è diventata un fine in se stesso è diventato far soldi dai soldi nel più breve tempo possibile non è più uno strumento ma è appunto diventata un fine e da qui dobbiamo partire e da qui anche volevo dire questo ringraziamento non scontato per incontrarci stasera l'opportunità di parlare di finanza perché è un tema molto difficile apparentemente molto difficile da affrontare e su quale ci sono sempre molte ritrosie ed è molto ostico avvicinarsi poi una volta che si entra magari ci si rende conto che non è così difficile che alcuni meccanismi possono essere svelati però vorrei partire da qui mi prendo due minuti per per spiegarvi questo fatto è avvenuto alcuni anni fa al Parlamento europeo però per capire l'importanza di occuparsi di finanza e quindi davvero il mio ringraziamento per questa opportunità per discuterne con voi e il punto da cui volevo partire è un appello che era stato firmato una quindicina di anni fa da oltre cento parlamentari europei di quasi tutti i partiti politici appello veramente trasversale di molti esponenti del Parlamento europeo in cui era scritto nero su bianco che la finanza oggi è una minaccia per la democrazia e questi parlamentari europei spiegavano la finanza non sarebbe una minaccia in sé la finanza dovrebbe essere uno strumento è uno strumento fondamentale per far girare l'economia ma oggi questo sistema finanziario è una minaccia per la democrazia perché perché se noi al Parlamento europeo dobbiamo affrontare il tema ambientale da un lato avremo le organizzazioni ambientaliste dall'altro lato avremo i petrolieri in qualche modo riusciamo a farci un'idea poi magari molti sono schierati da una parte ma le informazioni arrivano se dobbiamo parlare di diritti del lavoro da un lato avremo i sindacati dall'altro la confindustria riusciamo a farci un'idea se dobbiamo parlare di finanza letteralmente non riusciamo a tenere fuori dalla porta i lobbisti della city di Londra dall'altro lato non c'è nessuno manca un movimento di formazione di informazione su che cos'è la finanza come funziona quali sono i suoi impatti per cui in questo momento è totalmente sbilanciato uno strapotere delle lobby finanziarie dall'altro lato manca una capacità della società civile delle reti dei movimenti dal basso che riescano in qualche modo a esercitare una contro lobby quindi il fatto che una rete come Extinction Rebellion decida di coorganizzare con Banca Etica un momento del genere secondo me è davvero molto importante e perché la finanza agisce così per profitti verrebbe da dire banalmente Andrea nel suo primo intervento ha ricordato quanti miliardi e migliaia di miliardi le banche continuino a derogare ai combustibili fossili io vorrei prendere un altro approccio però per arrivare allo stesso risultato oggi l'obiettivo della finanza è di brevissimo termine gli orizzonti devono essere solo immediati e questo non è solo l'obiettivo delle banche della finanza ma ha ricaduta sull'insieme del sistema economico e produttivo perché oggi la maggior parte delle grandi imprese i principali azionisti sono fondi di investimento fondi pensione sono tutte quando sono quotate in borsa sono di proprietà di grandi azionisti quindi l'obiettivo dell'azienda non è più un obiettivo di lungo periodo e conciliare lo sviluppo dell'azienda con l'attenzione all'ambiente con i diritti sociali con i diritti del lavoro il mio unico obiettivo è guardare la mia quotazione quotidiana in borsa se sale o scende se non sale abbastanza ho un problema perché non soddisfo l'appetito degli investitori che mi stanno sopra su questo si potrebbero fare moltissimi esempi chi di voi è interessato ne dico uno di tre o quattro giorni fa è l'esempio della Danone la Danone quattro giorni fa si è andata a cercare amministratore delegato Danone ha fatto fuori l'amministratore delegato si chiamava Emanuel Faber e adesso stanno cercando un nuovo amministratore delegato e c'era un articolo del Financial Times di tre giorni fa Financial Times non è proprio un bollettino ostile ai mercati finanziari e agli azionisti sul Financial Times nero su bianco c'era scritto Faber ha dedicato troppa attenzione alla sostenibilità troppa attenzione a fare di Danone un'impresa attenta all'ambiente attenta ad alcune problematiche alcuni grandi fondi di investimento fondi di private equity alcuni di questi squali dei mercati finanziari si sono messi di traverso hanno condotto una battaglia lunga per far fuori questo amministratore delegato chiaramente senza dire è troppo attento all'ambiente non ci fa profitti nel raggio di pochi secondi come vogliamo noi ma il Financial Times lo dice nero su bianco troppa attenzione alle tematiche legate alla sostenibilità non rispondeva alle aspettative degli investitori che stanno sui mercati finanziari siamo letteralmente nella situazione o la borsa o la vita la borsa è la borsa è Wall Street o della City di Londra e bisogna scegliere se stare da una parte o dall'altra e oggi la finanza ragiona in questi termini e pretende di piegare l'insieme delle regole economiche ambientali sociali al diktat di ottenere questi massimi profitti nel minor tempo possibile e quindi gli impatti ambientali sono ovviamente il primo che viene in mente poi Andrea potrà entrare molto più nel merito su questo con dei dati ne ha già accennato il primo le banche che raccolgono risparmio dai clienti e continuano a impiegarlo nelle fonti fossili perché gli conviene nel breve termine così perché c'è un ritorno superiore apparentemente superiore senza considerare gli impatti ambientali però dobbiamo considerare l'insieme del peso che ha la finanza nell'imporre questi obiettivi di brevissimo termine al sistema economico dobbiamo considerare l'impatto che hanno alcuni strumenti finanziari anche qui mi prendo un minuto è una cosa abbastanza tecnica ma cerco di semplificarla al massimo un esempio di come agisce oggi questo casino finanziario che abbiamo sopra la testa è quello dei derivati i derivati sono degli strumenti che dovrebbero servire come delle assicurazioni faccio questo esempio oggi con un derivato posso comprare per esempio un derivato sul grano io ho un pastificio voglio proteggermi contro l'aumento la diminuzione dei prezzi e quindi posso comprare un derivato oggi che mi dà a un prezzo fissato oggi la possibilità di comprare del grano tra un mese o fra tre mesi quindi per esempio io oggi firmo un contratto derivato e so che posso comprare tra un mese una tonnellata di grano a un prezzo deciso già oggi se tra un mese il prezzo del grano è salito io potrò comprarlo a un prezzo inferiore e guadagnare se è sceso devo comprarlo a un prezzo superiore e perdo quindi l'idea è un'assicurazione se io ho un pastificio se io sono un coltivatore che coltiva grano e posso assicurarmi contro l'aumento o la diminuzione dei prezzi ma il problema è che con i derivati posso anche fare una scommessa sul prezzo futuro se pensate all'assicurazione uno pensa assicurazione sull'automobile io mi assicuro la mia automobile contro il furto incendio ecco nel mondo finanziario io non ho bisogno di essere proprietario di quell'automobile io posso assicurarmi contro il fatto che l'automobile del mio vicino andrà a fuoco perché non si può fare nel mondo reale perché se qualcuno andasse lì con un fiammifero ovviamente avrei tutto da guadagnare sul mondo finanziario posso fare questo e posso scommettere sul prezzo futuro del grano delle materie prime del petrolio di qualunque materia prima vi venga in mente e in questo modo guadagnare dalle oscillazioni dei prezzi beh oggi su cento derivati che vengono negoziati uno è comprato o venduto da qualcuno che ha un interesse reale un derivato sul grano perché ha un pastificio o perché coltivo grano il novantanove degli altri sono solo scommesse sul prezzo futuro come dire che su cento miliardi di movimenti finanziari l'un per cento è legato all'economia reale il novantanove per cento dei soldi che girano nel mondo non dovremmo neanche chiamarli finanza dovremmo chiamarli casino dovremmo chiamarli sala scommesse ma non fanno quello che dovrebbero fare però gli impatti di queste operazioni finanziarie sono terribili sui prezzi del cibo sui prezzi delle materie prime anche sui prezzi dei combustibili fossili di qualunque cosa vi viene in mente anche qui vi do un breve esempio poi se mi dilungo troppo chiedo a Claudia di fermarmi anche bruscamente perché poi quando parto di solito non mi fermo più però per spiegarvi quale può essere l'impatto di queste cose nel 2007 chi di voi si ricorderà crolla l'Allemann Brothers bolla dei mutui su prime crollano i mercati finanziari di tutto il mondo somme gigantesche fuggono dai mercati finanziari e cercano rifugio in qualcosa che non sia le solite azioni e obbligazioni grazie ai derivati posso comprare l'oro posso comprare il petrolio posso comprare il grano posso comprare materie prime talmente tanti capitali scappano dai mercati finanziari e si riversano sulle materie prime che nei primi mesi del 2008 assistiamo a un raddoppio dei prezzi del cibo in tutto il mondo raddoppia il prezzo del grano del mais del riso secondo le agenzie dell'ONU decine di milioni di esseri umani in più malnutriti o sottonutriti perché non riuscivano più a comprarsi le materie prime di base allora raddoppiare dei prezzi in pochi mesi uno pensa a una piaga biblica un'inondazione alle cavallette non c'è stato nessun fenomeno naturale sono fenomeni speculativi che hanno portato all'aumento dei prezzi e in conseguenza al fatto che milioni di persone non potessero nutrirsi questo in conseguenza credo che sia il miglior rassunto della follia a cui è arrivata la finanza oggi alla Borsa di Londra alcuni dicono la finanza è diventata the tail that whacks the dog in inglese vuol dire la coda che fa scodinzolare il cane si è completamente ribaltato l'approccio tra un sistema economico e la finanza che dovrebbe essere al servizio di questo sistema economico oggi abbiamo una finanza che detta i ritmi i tempi e che decide se milioni di persone possono mangiare o no tra l'altro ultimo passaggio che vorrei fare su come funziona come non funziona la finanza poi arriviamo magari a parlare anche della finanza etica è questi meccanismi speculativi e il fatto che ci siano milioni di persone malnutrite o gli impatti ambientali o gli impatti sociali o la devastazione sul clima non è un fastidioso effetto collaterale della finanza speculativa è la base stessa del gioco la speculazione non avrebbe senso se non ci fossero queste oscillazioni dei prezzi cosa significa speculare io compro una casa a 100 dopo un anno la rivendo a 101 ho realizzato una speculazione immobiliare ma se la compro a 100 e dopo un anno la rivendo a 101 ho guadagnato l'un per cento in un anno non è molto bella come scommessa molto più divertente scommettere se il mercato delle case è impazzito io compro una casa a 100 dopo un mese sta a 80 dopo due mesi a 120 in altre parole più le oscillazioni sono ampie e più sono veloci più posso estrarre i profitti dalla mia attività speculativa e oggi la follia è che è la stessa speculazione a generare quelle oscillazioni dei prezzi da cui poi va a estrarre i profitti nessuno specula sui titoli di stato tedeschi perché qualunque cosa succede il prezzo è costante non è divertente per uno squalo della finanza molto più divertente andare a scommettere sui prezzi del cibo sui prezzi delle materie prime sulle catastrofi ambientali sempre di più perché sono fenomeni naturali quindi già soggetti a oscillazioni dei prezzi lì entra la speculazione e lì crea le montagne russe dei prezzi in modo da poter guadagnare sempre di più quindi i disastri che stiamo vedendo sono in buona parte legati al fatto che sono funzionali all'estrazione di profitti richiesti da una finanza che si è trasformata in un gigantesco casino questo è il 99% della finanza e oggi ci troviamo in una situazione in cui da un lato ci sentiamo ripetere che non ci sono i soldi non ci sono per la riconversione ecologica dell'economia non ci sono per la ricerca non ci sono per le spese mediche di base non ci sono per la sanità pubblica e dall'altro lato non ci sono mai stati tanti soldi come adesso se andate a vedere le ultime aste dei titoli di stato i bot dei titoli italiani hanno un rendimento negativo girano talmente tanti soldi che chi ha dei soldi da investire non sa più dove metterli e deve accettare un rendimento negativo e nello stesso momento ci dicono che non ci sono i soldi per gli investimenti di lungo periodo di cui avremo bisogno stiamo vivendo la follia di un eccesso di soldi e di una mancanza di soldi dove dovrebbero andare oggi i derivati possono scommettere sui prezzi del cibo ma i contadini che quel cibo lo producono sono esclusi dai servizi finanziari sono esclusi dall'accesso al credito oggi è questa la follia di una finanza che è totalmente inefficace totalmente inefficiente ma pretende di piegare l'insieme delle regole della società ai propri diktat che sono quelli del massimo profitto nel minor tempo possibile poi se volete arriviamo appunto a possibili soluzioni dopo questa ventata di ottimismo però magari come primo intervento mi fermerei qui e ripasso la parola a Claudia e poi a Andrea c'è anche qualche domanda in realtà ma te le faccio alla fine io ad Andrea l'altro Barolini chiederei di fare magari qualche nome e cognome di chi abbiamo parlato di queste cifre stratosferiche chi sono e come li spendono questi soldi che poi sono i nostri soldi tra l'altro allora vogliamo arrivare fino a domani mattina allora nomi e cognomi dunque i nomi e cognomi sono veramente tanti le banche e fondi di investimento le compagnie di assicurazione che continuano a pompare denaro che alimenta a vadio titolo poi i cambiamenti climatici perché noi tante volte ci fossilizziamo su ecco ci fossilizziamo sulle fonti fossili ma in realtà poi ad esempio esiste un movimento che in qualche modo con grande difficoltà sta cominciando a convincere alcune realtà a piano 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 limare e limitare gli investimenti nelle fonti fossili ma ad esempio grandissima parte della deforestazione è legata all'agricoltura e agli allevamenti intensivi quindi anche l'agricoltura e gli allevamenti intensivi dovrebbero rientrare in quel novero di cose e qui si apre poi ampiamente la distinzione che Banca Etica fa giustamente tra una finanza etica e una finanza sostenibile tra appunto quel tutto quello che è io mi concentro soltanto sulla limitazione di quel problema e invece faccio un ragionamento olistico faccio un ragionamento completo complessivo e cerco di risolverlo in maniera generale potrei farne tanti esempi per fare i nomi di recente abbastanza di recente è uscito un rapporto firmato da una serie di organizzazioni non governative tra cui Urgevald Reclaim Finance Rainforest Action Network eccetera hanno fatto il conto di quanti soldi possiedono i 4.500 quasi investitori istituzionali che hanno detengono azioni titoli di compagnie che a vario titolo operano nel settore del carbone quindi è soltanto il carbone non stiamo neanche facendo le fonti fossili in generale ebbene sono più di mille miliardi e sono soldi che consentono a queste aziende di continuare imperterrite nei loro business ora l'apporto importante che è stato dato da questo da questo report è il fatto che anziché guardare come quasi tutte le ricerche finanziarie che hanno state fatte in passato soltanto le prime 200 250 aziende le più importanti sono state prese in considerazione i flussi finanziari di tutte le 934 imprese che compongono il Global Coal Exit la Global Coal Exit List che è l'elenco delle società che a vario titolo operano della filiera del carbone e è uscito fuori che il fondo di investimento Vanguard è negli Stati Uniti americano con 86 miliardi di dollari se non ricordo male è il primo il secondo è BlackRock che è il più grande fondo di investimenti del mondo e da soli coprono il 17% di quel totale dei mille miliardi dopodiché in generale sono fondi e banche statunitensi circa quasi il 60% di questi mille miliardi è americano e poi secondo posto ben distante ci sta invece il Giappone con un'ottantina di miliardi e poi il Regno Unito e via via tutti gli altri la ricerca inoltre ha sottolineato che 381 banche commerciali hanno perché da una parte c'è quello che si ha che si possiede con azioni e obbligazioni dall'altra parte ci sono per esempio i prestiti e le sottoscrizioni che vengono fatte e 381 banche commerciali hanno concesso prestiti per un totale di 315 miliardi di dollari all'industria del carbone soltanto negli ultimi due anni in questo caso non sono gli americani a primeggiare tra virgolette ma i giapponesi c'è la Mitsuo poi c'è la Sumitomo la Mitsubishi J.E. Financial Group e solo quarta c'è la Citigroup americana e poi anche Barclays eccetera eccetera e poi nomi e cognomi intesa San Paolo è trentaquattresima con due miliardi e mezzo Unicredit è diciassettesima con quattro virgola uno miliardi e nella classifica va detto che ci sono anche altre banche italiane c'è Ubi Banca Mediobanca Banca Popolare dell'Emilia Romagna Banca Popolare di Sondrio Banca Montepaschisien eccetera quindi sono qual è la ragione anche io vorrei provare a dire la mia la ragione è anche molto legata e molto intrecciata alla lungimiranza e alla politica esistono una valanga di studi che ci hanno spiegato che intanto che ci hanno spiegato che è inutile che continuiamo a parlare di salvaguardia di posti di lavoro non si può fare la conversione dell'ENI è sempre fare nome e cognomi perché altrimenti i posti di lavoro come facciamo ma noi per esempio nel 2019 fine 2019 alla COP25 di Madrid eravamo presenti c'era anche Claudia abbiamo intervistato l'allora ministro della pubblica istruzione Fioramonti che ci aveva detto era finito un po' su tutti i giornali l'ENI deve riconvertirsi completamente entro vent'anni e deve grazie a questa riconversione passare a abbandonare il petrolio ovviamente l'ENI che abbandona il petrolio è una notizia un ministro che lo dice è una notizia il problema è che il problema è anche normale che ci voglia del tempo però il problema tra virgolette è che ci vogliono vent'anni tra vent'anni si stacca il dividendo positivo dei nuovi della conversione che sarà stata fatta e quindi di un nuovo modo di fare business anche se poi anche nel corso del tempo non c'è bisogno di aspettare certo fino al al 2040 per riuscirci ma il punto è che una transizione è sempre un travaglio in qualche modo è sempre una cosa è inutile che ci nascondiamo è sempre qualche cosa che comporta una difficoltà e i governi durano cinque anni e molto pochi sono molto pochi quelli che sono disposti a dire sì io stacco anche il dividendo della parte di difficoltà che dovrò affrontare per fare questa transizione ma è una transizione che dobbiamo fare siamo per usare uno slogan abbiamo due possibilità o governiamo una rivoluzione o assistiamo a una catastrofe non abbiamo granché scelta da questo punto di vista quindi e lo dobbiamo fare immediatamente perché già ci hanno spiegato in tutte le maniere che noi più andiamo avanti più poi a un certo punto saremo costretti a farle crollare queste emissioni se vogliamo arrivare all'obiettivo dell'azzeramento delle emissioni nette di CO2 entro almeno la metà del secolo meglio prima Allora adesso vediamo un po' se ci sono delle soluzioni intanto per esempio parto da una domanda qua di Matilde che dice ma se la finanza è così deletere è così potente non potrebbe valer la pena staccare l'economia reale dalla finanza tossica cambiando monete eccetera in modo da lasciar giocare il casino virtuale senza che in questo influenzi troppo il mondo organizzarci senza aver bisogno dei loro servizi è una proposta che ha senso o è comunque più fattibile rendere ragionevole la finanza ed eventualmente come si fa a rendere ragionevole e poi entrando nello specifico di quello che che fate facciamo come finanza etica ora che si parla di finanza sostenibile a livello europeo è stato approvato è stato approvato no è stato entrato in vigore un regolamento che definisce che cosa è sostenibile in ambito finanziario stiamo facendo dei passi avanti siamo contenti di questo e se no perché Andrea Baranes raccontaci il glass di Galacta Andrea allora staccarsi sarebbe bello ma è molto complicato perché appunto un po' quello che dicevo prima questi purtroppo non sono non stanno giocando a monopoli su un altro pianeta con altri soldi sono sono gli attori finanziari che poi finanziano anche in parte l'economia reale che però inseguono questi meccanismi dobbiamo cercare di cambiare rotta e cambiare radicalmente rotta a questo sistema finanziario e dal nostro punto di vista quello che diciamo per riuscire a cambiare rotta bisogna intervenire dall'alto e dal basso diciamo così dall'alto significa una serie di regole di normative per chiudere il casino finanziario ad esempio sui derivati l'obbligo di consegna il sottostante sembra una cosa un po' tecnica rendere i derivati simili alle assicurazioni della vita reale io mi assicuro contro furto e incendio se sono il proprietario di un'automobile non posso farlo per scommettere sul fatto che l'auto del mio vicino andrà a fuoco perché questa è una cosa banale per qualunque settore merceologico ma invece nella finanza è normale che il 99% delle operazioni siano pure scommesse oppure per evitare operazioni di brevissimo termine si parla da tempo di tassare le operazioni finanziarie oppure sulla chiusura dei paradisi fiscali quello che forse fa più arrabbiare ma che dà anche un minimo di speranza è che la maggior parte delle regole che andrebbero introdotte per chiudere il casino finanziario non è una questione di difficoltà tecnica sapremmo cosa andrebbe fatto e come agire è una questione di volontà politica e questa volontà politica che fino ad oggi è mancata vi sono delle domande e diceva anche da quando è diventato un casino del genere ci sono sempre stati eccessi nel sistema finanziario ma questo scollamento completo della finanza dall'economia reale è negli ultimi 30-40 anni e dall'avvento delle dottrine neoliberiste prima delle quali è stato abbattiamo qualunque regola o controllo perché i mercati si regolano da soli e se davvero c'è stata una globalizzazione è la globalizzazione della finanza e dei mercati di capitali oggi i soldi possono girare liberamente in tutto il mondo alla ricerca delle condizioni migliori e condizioni migliori vuol dire non pagare le tasse libertà di impatti ambientali libertà di violazioni dei diritti umani pur di fare profitti e la maggior parte delle normative che riguardano l'ambiente i diritti umani i diritti sociali sono ancora ferme alle frontiere quindi la finanza è libera di muoversi e diventa una corsa verso il fondo tra paesi per abbattere leggi e normative pur di attrarre sempre più i capitali i paradisi fiscali sono solo uno di questi di questi esempi se volete posso entrare poi nel merito i quali sono alcune regole separare le banche commerciali dalle banche di investimento chiudere i paradisi fiscali che cosa si potrebbe fare operativamente però insieme ad agire dall'alto e crediamo questo è fondamentale quello che il discorso che portiamo avanti da anni è la necessità di agire dal basso io spesso vado in giro a parlare di finanza etica come una possibile risposta e mi sento dire sì io se no c'ho mille euro sul conto corrente figurati se i miei soldi possono fare la differenza allora ovviamente i nostri risparmi come singoli sono meno di una gocciolina nell'oceano ma i mille duemila cinque mila euro di ogni persona tenete conto lo ricordava Andrea in parte prima i maggiori attori sui mercati finanziari i quattro colossi che rappresentano la stragrande maggioranza degli investimenti in questo sistema finanziario sono banche fondi pensione fondi di investimento assicurazioni tutti e quattro si alimentano con i nostri risparmi e con i nostri soldi poi sì c'è lo squalo miliardario di Wall Street che gioca al casino come vediamo nei film di Hollywood ma sono una piccola minoranza rispetto all'insieme dei mercati finanziari allora se iniziamo a ragionare sull'uso dei nostri soldi banalmente l'esempio che faccio spesso è se andassi da un conoscente e gli dicessi prestami cento euro me li gioco le corse dei cavalli se vinco te li ridosso se no amici come prima non li rivedi immagino che nessuno di noi glieli presterebbe perché nel momento in cui li metto in banca o li affida un gestore finanziario è come se non fossero più soldi miei io ho il diritto per molti versi ho il dovere di sapere che fine fanno questi soldi e come vengono impiegati la mia banca con i miei soldi sta alimentando l'economia del territorio finiscono alle isole Cayman in qualche paradiso fiscale sto alimentando efficienza energetica un contadino che coltiva biologico o il traffico d'armi e l'economia fondata sul carbone e sulle fossili sono i miei soldi cioè come noi ci occupiamo e abbiamo molti settori in cui cerchiamo di attivarci di fare qualcosa ecco che anche in ambito finanziario proprio per lo strapotere che ha la finanza riuscire a spostare anche poco non è che il cento per cento dei clienti di colpo devono cambiare strada ma cambiare anche poco ha un'incidenza forte sul comportamento delle banche e dei gestori e questo a cascata può cambiare anche e di molto quelli che sono i comportamenti economici allora su questo due minuti evito lo spottone poi Marco che ha fatto l'introduzione su banca etica però per dirvi una differenza tra banca etica e le altre banche oggi purtroppo mi verrebbe da dire banca etica è l'unica in Italia che pubblica sul suo sito tutti i finanziamenti che concede alle persone giuridiche voi andate sul sito di banca etica c'è una sezione chi finanziamo con i nostri soldi e trovate dal giorno in cui è nata la banca ad oggi euro per euro tutti i finanziamenti che sono stati concessi a cooperative associazioni imprese tutti quanti e potete vedere i vostri soldi dove vanno un'altra differenza è che banca etica dall'inizio ha escluso qualunque attività che abbia impatti negativi sull'ambiente e sui diritti umani quindi l'esclusione di tutti i combustibili fossili da quando siamo nati proprio scritta nello statuto della banca non è neanche una polisi che ci siamo dati dopo una linea guida che ci siamo dati dopo poi Marco ricordava una forma cooperativa in cui oggi abbiamo più di 40.000 soci che lavorano e controllano anche dal basso la banca banca etica quello che fa è per ogni richiesta di finanziamento che arriva alla banca c'è un'istruttoria economica come fanno tutte le banche ma noi facciamo anche una valutazione dell'impatto sociale e ambientale che ha ogni richiesta di finanziamento quando qualcuno arriva a chiedere dei soldi a banca etica gli chiediamo perché sei venuto da noi qual è il tuo patto ambientale quali sono i tuoi rapporti di lavoro quali sono la percentuale di donne in posizioni di dirigenti quali sono i tuoi rapporti con i sindacati qual è il tuo trattamento dei rifiuti e come ti comporti e cerchiamo di valutare tutte le ricadute non economiche dell'agire economico ecco questa questione della trasparenza il fatto di pubblicare sul proprio sito l'elenco completo dei finanziamenti che si concedono entrate vi sfido chiunque ha un conto in un'altra banca entrare nella vostra banca so già la risposta c'è il segreto bancario non possiamo dire che finanziamo ecco il segreto bancario non è una qualche imposizione normativa o qualche obbligo che hanno le banche se non hai nulla da nascondere non c'è nulla da nascondere quindi ci sono dei modi diversi di fare banca per arrivare agli ultimi due minuti poi anche qui se volete possiamo approfondire l'Unione Europea è partita ormai alcuni anni fa con questo percorso un action plan sulla finanza sostenibile la prima parte di questo regolamento europeo sulla finanza sostenibile è entrato in vigore pochi giorni fa ed è un percorso ancora lungo dal nostro punto di vista è un passo avanti ma è un passo avanti estremamente timido ed estremamente insufficiente dico che è un passo avanti perché oggi credo sia difficile aprire il sito di una qualunque banca o gestore finanziario e non trovare la parola sostenibilità responsabilità ambiente attenzione al clima e chi più ne ha più ne metta poi in realtà molto spesso è quello che si chiama il famoso greenwashing una bella lavata di verde e continuo a comportarmi come prima anche qui un esempio molto veloce ancora recentemente c'erano delle banche che si autodefinivano sostenibili guardando unicamente gli impatti interni che vuol dire che tanto bello che tu usi carta riciclata nelle filiali o mettere lampadine a basso consumo nelle filiali però se poi continui a finanziare per miliardi di dollari le peggiori centrali a carbone del pianeta ecco diciamo il definirsi sostenibili ci vuole una bella faccia tosta per non dire di peggio allora l'iniziativa dell'Unione Europea che fissa dei paletti e dei criteri per dire quali investimenti quali attività finanziarie possono avere il bollino per definirsi finanza sostenibile è comunque un passo avanti se non altro per evitare in futuro questi eccessi detto questo è ancora molto debole intanto è focalizzata solo sull'ambiente c'è pochissimo sulla giustizia sociale pochissimo su tutto quello che dicevo prima di contrasto alla speculazione o del breve termine della finanza e anche sull'ambiente per noi è assolutamente insufficiente anche qui di questi giorni la notizia che la lobby del gas sta alzando la testa perché pretendere di essere riconsiderata all'interno delle attività di finanza sostenibile dicendo che il gas dovrebbe essere un combustibile di transizione se devi fare la transizione per allontanarti dai fossili e infili un combustibile fossile come combustibile di transizione è chiaro che c'è un problema e c'è un problema grosso quindi dobbiamo vedere dove porterà questo percorso può essere un passo in avanti nello stesso tempo rischia di creare anche confusione nel momento in cui passasse una definizione troppo diluita ma per il risparmiatore vede il bollino sostenibile certificato dall'Unione Europea diventa ancora più difficile orientarsi quindi stiamo seguendo questo percorso con interesse ma anche molto molto criticamente perché al momento è diciamo un buon inizio a voler vedere il bicchiere mezzo pieno ma totalmente insufficiente allora intanto per correttezza la domanda di prima veniva da Facebook da Cristian e non era Matilde che era solo il tramite e Daniele Extinction Rebellion raccontaci un po' questa campagna di un'interesse sì sì grazie volevo proprio collegarmi in questo momento con le parole di Andrea Baranes perché stiamo lanciando in questi giorni una campagna internazionale legata al tema della finanza fossile che è un po' anticipato prima in Aida in particolare il primo di aprile ci saranno diverse iniziative diffuse sul territorio italiano ma è una campagna internazionale quindi ce ne saranno anche in altri paesi e che saranno concentrate verso vicino agli istituti finanziari perché facciamo questo perché da un lato ascoltando i dati le informazioni che riguardano l'economia ci sentiamo schiacciati da quello che sta succedendo dalla spaventosa sproporzione di questi capitali che non vanno nella direzione di risolvere l'emergenza climatica e ambientale in cui ci troviamo e quindi come movimento almeno io quando sono entrato un paio di anni fa che il movimento è arrivato in Italia ho visto la possibilità di esprimere la mia responsabilità e il mio potere come cittadino come persona comune che però si organizza in un gruppo cioè un movimento che può avere un impatto maggiore quindi questa direzione è la campagna che facciamo che partirà al primo aprile ma comunque avrà diverse scadenze nel corso di questo anno abbastanza cruciale direi per le decisioni politiche che riguardano il nostro futuro e dal primo aprile con queste iniziative che faremo in diverse città vorremmo avere sia un impatto mediatico che purtroppo dipende anche dalle condizioni di visibilità scarse in cui ci troviamo nel senso che non si può molto spostare non si può organizzare grandi mobilitazioni nelle strade però siamo con un movimento molto creativi quindi cerchiamo di studiare nuove forme che abbiano comunque un impatto meno mediatico e quindi ci saranno queste iniziative diffuse come presidi in diverse città italiane che poi insomma si scopriranno il primo di aprile e anche abbiamo stiamo lanciando in questi giorni una campagna che è più legata al boicottaggio come è già successo in Italia qualche anno fa e in certo modo ancora in corso c'è stata una mobilitazione per togliere i soldi dalle banche armate quindi evitare di finanziare quelle banche che sostengono la produzione di armi che ha avuto un certo successo negli anni passati crediamo che questo sia possibile da utilizzare come modello e anche da riproporre nel campo ambientale che è quello che è la nostra ragionazione e per cui ci stiamo proponendo e invitando a partire da noi stessi quindi dagli attivisti di Stincia Rebellion di chiudere i conti nelle banche che più sono coinvolte nella finanza tossica nella finanza legata ai combustibili fossili possiamo anche dire i nomi che in parte sono stati detti in Italia sono in particolare in Tieta San Paolo Unicredit e per le assicurazioni generali quindi è un'azione molto semplice e molto diretta e secondo me fantastica perché se fosse fatta da centinaia di persone metteremo gravemente in difficoltà questi istituti ma come diceva anche prima Andrea già se l'iniziativa inizia a diffondersi anche per la loro immagine credo che sia un buon per la perdita di immagine che ne deriva sia comunque valga comunque la pena di farlo quindi si tratta di andare per chi ha conti in queste banche a chiudere il proprio conto a togliere per chi ha investimenti e spostarli da altre parti abbiamo sentito stasera che le alternative ci sono e sono valide per cui non vedo perché bisogna continuare a dare i nostri soldi a persone che li usano in modo sbagliato come facciamo scelte non so di usare un fornitore di energia 100% rinnovabile o acquistare cibo biologico o tante altre scelte di stili di vita alternativi più consapevoli anche questo mi sembra nella stessa direzione e se la facciamo tante persone unite e magari concentrate in un periodo ha sicuramente un impatto maggiore quindi abbiamo iniziato proprio a suggerire a chi poteva in questi giorni diciamo quindi il primo di aprile a fare questa chiusura dei conti e a documentarlo quindi a farsi una foto non so scrivere registrare qualcosa cioè in modo che siano delle azioni pubbliche trasparenti molto tranquille quindi non rientra nel nostro diritti non dobbiamo litigare con nessuno e danno sicuramente un impatto positivo quindi questo è un pochino la presentazione di questa campagna che è ancora in guerra di definizione tra l'altro c'è Davide Escotti che fa parte anche di XR del gruppo di Milano che ha contribuito all'organizzazione di questo incontro questa sera volevo chiedere se vuole integrare aggiungendo qualcosa il discorso che ho fatto ora mi sembra che fosse collegato prima mi sembra comunque di aver detto la sostanza appena Davide che non riesce che altro dire se volete seguire o partecipare alla campagna potete seguire Instincter Rebellion sui social sulla pagina extinctionrebellion.it ci saranno sicuramente informazioni di quelle che ho portato io qui stasera anche pratiche concrete di come fare questo boicottaggio anche come diffondere le informazioni che servono per chi vuole approfondire mi che transizione farà questo ministero della transizione ecologica? Abbiamo addirittura un ministero dedicato, non c'è più il ministero dell'ambiente, ma è una buona notizia? Ma c'è il ministero della transizione ecologica, per me non è né una buona notizia né una cattiva notizia, nel senso è il cambio del nome che è stato dato a un ministero. Io abito in Francia abito in Francia dal 2011 e in Francia il ministero della transizione ecologica esiste già. Quando è stato eletto Macron Emmanuel Macron, presidente della Repubblica Francese una delle prime cose che lui fece fu inviare un messaggio video sui social a Donald Trump dicendogli l'accordo di Parigi non si tocca, anche perché è di Parigi e quindi dobbiamo assolutamente continuare la strada della riduzione delle emissioni che ha stato effetto CR eccetera eccetera e questo video ovviamente ha fatto il giro del mondo perché comunque il presidente della Francia risponde al presidente degli Stati Uniti anche in maniera piuttosto energica contestualmente lui crea il ministero della transizione ecologica e non soltanto lo crea ma ci mette a dirigerlo, ministro una personalità di assoluto rigore di assoluta una sincera convinzione in ideali ecologisti Nicolai Hulot presidente dell'omonima fondazione Nicolai Hulot che lavora per un anno alla fine di quest'anno di lavoro Nicolai Hulot si presenta un giorno nello studio di una radio che si chiama Front Saint Terre che è una delle principali emittenti radiofoniche francesi e lo trovate su internet se andate a cercare le dimissioni di Nicolai Hulot lui si dimette in lacrime e dice io mi sono ritrovato a fare passi indietro tutti i giorni mi sono ritrovato con le lobby che mi ringhiavano dietro qualunque cosa io facessi mi sono ritrovato ad abbassare le mie pretese di giorno in giorno e soprattutto diceva lui mi dimetto perché non voglio dare l'impressione che la mia presenza al governo significhi che le cose stanno andando bene quindi il ministero della transizione ecologica chiamarlo così certamente potrebbe denotare la volontà di dare un nuovo slancio a questo ministero è vero che alcune prerogative che erano del Mise del ministero dello sviluppo economico in particolare legate all'energia sono state attribuite al nuovo ministero della transizione ecologica ma non è stato fuso completamente con il ministero dello sviluppo economico come si sperava perché chiaramente la transizione è legata a filo doppio all'economia al ministero dello sviluppo economico c'è una persona che si vedrà come lavorerà ma insomma viene da un partito che certamente non ha particolarmente premuto sulla questione climatica come nei propri programmi insomma la Lega di Salvini e in più è stato scelto ministro una persona che non si è particolarmente occupata di clima e di ambiente nel corso della sua carriera si è occupato di robotica anche con grande successo è certamente una persona che crede nell'innovazione poi quando sento che loro fanno i loro discorsi e insistono tanto sul cloud come soluzione a tutti i mali io dico sì però attenzione perché lo sappiamo anche quello come funziona io non è che voglio tornare indietro a un mondo del medioevo assolutamente però anche un utilizzo intelligente delle nuove tecnologie è necessario perché altrimenti noi tiriamo una coperta troppo corta da un lato o dall'altro oggi facciamo un utilizzo oggettivamente del nostro mondo digitale che non è un utilizzo che è compatibile anche quello con l'ambiente noi abbiamo ad esempio ciascuno di noi la casella di posta elettronica intasata dallo spam e lo spam è un rapporto del 2009 di una notissima società che vende antivirus quindi chiaramente loro lo dicevano anche protomoloro però insomma avevano fatto questo lavoro nel quale spiegavano che lo spam in tutto il mondo consuma la stessa energia di 7500 auto che viaggiano mediamente quello che viaggiano in un anno e quindi basti pensare che inviare un messaggio di posta elettronica con un allegato da un megabyte roba che facciamo tutti i giorni significa è equivale a mantenere accesa una lampadina da 20 watt per due ore perché? Perché questo lo sappiamo il messaggio di posta elettronica viene veicolato negli Stati Uniti tipicamente o in altri posti dove ci sono degli hangar strapieni di computer impilati l'uno sull'altro che devono elaborare il messaggio che lo rinviano poi alla persona destinataria e queste pile di computer consumano un sacco di energia e scaldano scaldano un sacco tanto che a Parigi una piscina alla Rue della Buttocaille è scaldata dai server di una di queste società che fa questo messiere e per abbassare la temperatura di questi hangar pieni di computer ci vogliono degli sistemi immensi di climatizzazione che fanno questi sistemi e consumano energia pure quelli quindi anche da quel punto di vista io nutro alcuni dubbi poi certo aspettiamo di vedere che cosa faranno come lavoreranno e non ho detto nulla visto che però no lo diciamo lo stesso visto che l'approccio nostro non è soltanto sul clima ma olistico come dicevamo un approccio complessivo ebbene allora lì Cingolani viene anche da una società che ha tutto il diritto di funzionare e ha tutto il diritto di fare quello che ritiene perché non fa finché non vengono commessi i reati si può fare tutto però è una società che basa la Leonardo S.P.A. la propria gran parte del proprio business sulla produzione e vendita di armi e avrei preferito che ci fosse un Nicolai Hulot anche al Ministero della Transizione Energetica e ad una transizione ecologica italiana benché con il rischio che tra un anno si potesse dimettere anche lui Andrea Baranes due domande una come si fa a scommettere sulle catastrofi naturali e l'altra è come verificare se una banca di credo cooperativa è libera da investimenti in combustibili fossili allora su catastrofi naturali sempre ci sono ormai anche delle applicazioni che hanno cat bond che in qualche modo rendono all'avvenimento di un certo evento naturale le compagnie assicurative sempre più assicurano e poi ci sono meccanismi di riassicurazione però essenzialmente nuovamente è tramite derivate l'impatto che possono avere sui prezzi delle materie prime io penso che se ci può essere una siccità un aumento della temperatura che ridurrà il raccolto in quell'anno allora aumenterà il prezzo del grano allora vado a scommettere tramite derivati con questi strumenti finanziari e mi permette di andare in una certa direzione o nell'altra su questo vorrei dire che di nuovo è talmente folle non mi vengono in mente molte altre parole per descriverlo che oggi io quando compro un derivato sul prezzo del petrolio o sul prezzo del grano non lo tengo quasi mai fino a scadenza perché non mi interessa neanche che alla fine aumenti il prezzo del petrolio o del grano mi interessa che aumenti il prezzo del derivato cerco di spiegarmi torniamo all'esempio delle assicurazioni sulle auto mettiamo che io possa scommettere sul fatto che rubino l'auto del vicino io compro 100 assicurazioni contro il furto di auto nel mio quartiere se iniziano ad aumentare i furti di auto nel mio quartiere assicurarsi contro il furto costerà di più e quindi il valore delle mie assicurazioni che io avevo già comprato prima aumenta di valore perché le assicurazioni che girano costano di più quindi io guadagno dei soldi non aspettando di riscuotere ma rivendendo la mia assicurazione allora io compro un derivato sul grano se il prezzo del grano aumenta costerà di più anche il derivato e io rivendo la cosa su cui speculo non è più il grano e il petrolio è il derivato stesso quindi se io penso che ci possa essere una catastrofe in futuro io compro una qualche assicurazione contro quella catastrofe se si avvicina se peggiora il clima se si avvicina effettivamente la possibilità che possa accadere un evento negativo allora assicurarsi contro quell'evento negativo costerà di più io la mia assicurazione l'ho fatta quando costava di meno e guadagno speculando sul derivato in sé oggi sono i derivati che sono diventati gli strumenti delle scommesse siamo un gradino oltre e ancora più distaccati dall'economia reale però quello che dicevo all'inizio queste scommesse hanno poi un impatto decisivo su quelli che sono i prezzi delle materie prime ma persino sul petrolio che è la materia prima ancora oggi purtroppo più commercializzata e più importante a livello geopolitico ci sono casi di petroliere ferme in rada fuori dai porti che aspettano la telefonata dalla City di Londra perché la relativa grande compagnia di investimento ha scommesso tramite derivati sui prezzi dei futuri del petrolio e dice alla petroliera quando entrare nel porto per trovare il momento migliore della consegna in modo da massimizzare i guadagni finanziari quindi la petroliera sta fuori e aspetta che arrivi la telefonata dalla City di Londra che gli dica entra in porto o non entrare in porto tramite questo è possibile fare scommesse anche di questo genere o anche peggiori sono derivati sui derivati io posso scommettere sull'andamento delle scommesse come non riesco neanche a trovare un paragone con l'economia reale per dire veramente a che livello di totale distacco dall'economia però degli impatti diretti sulla vita di tutti noi non so se c'era un'altra domanda era questa l'altra era su come verificare se le banche di produttivo sulle BCC purtroppo guarda anche noi come banca etica ci sono molte BCC che sono soci di banca etica devo dire molte fanno le banche se dovrebbe dire piccolo e bello e di massima le piccole banche sono ancora in parte legate al territorio i grandi gruppi bancari lo sono molto di meno tra l'altro uno dei problemi che denunciamo anche qui come banca etica è si sta perdendo quella che chiamiamo la biodiversità bancaria un tempo c'erano tanti modelli di banca ci poteva essere la grande banca e c'era quella piccolina attenta ai bisogni degli artigiani del territorio oggi quelle di piccola dimensione si stanno perdendo e si stanno perdendo perché c'è un chiaro indirizzo che arriva dall'Unione Europea e dai governi per cui la competitività è diventata un obiettivo in sé per cui dobbiamo gareggiare su scala globale quindi servono banche sempre più grandi perché siamo in una gara e quindi devono essere sempre più efficienti nel servire le grandi multinazionali le stesse banche europee sono in una gara globale con le omologhe statunitensi, giapponesi, russe o cinesi quindi servono sempre più dei giganti finanziari per essere a servizio di imprese sempre più grandi perché siamo in questa gara globale in questa concorrenza spietata in questa crescita di smisura di gruppi bancari sempre più grossi un problema, intanto un problema è che i gruppi bancari sempre più grossi poi sono quelli che in inglese si chiamano too big to fail talmente grandi che non possono fallire perché se viene giù un colosso di enormi dimensioni rischia di trascinare con sé l'economia di un intero paese quindi se qualcosa va male possono ricattare i governi quindi finché le cose vanno bene i profitti sono privati ma quando il giocattolo si rompe devono intervenire i governi con soldi pubblici per ripianare le perdite di nuovo l'abbiamo visto nel 2007-2008 con i subprime e non solo però un altro problema è che si sta perdendo molto questa banca del territorio banca di vicinanza molte BCC continuano a fare quello che dovrebbero fare le banche raccolgono risparmio, erogano credito per il territorio purtroppo anche per le BCC una recente riforma di alcuni anni fa una riforma di alcuni anni fa che sta andando in porto adesso ha portato alla creazione di due grandi poli e quindi non c'è più l'indipendenza delle BCC ma sono raggruppate in due grandi poli bancari quindi si perde ancora di più la specificità delle BCC e alla fine è difficile avere dati puntuali perché ripeto davvero sinceramente purtroppo banca etica è l'unica che comunica quelli che sono l'elenco completo dei finanziamenti anche qui alcune banche stanno iniziando a fare un bilancio sociale sempre di più lo fanno accanto al bilancio economico c'è un bilancio ambientale e sociale in cui comunicano quelli che sono le emissioni e gli impatti anche qui molto spesso diciamo se non greenwashing però è un obiettivo di marketing per farsi belli poi dati più sensibili magari non li pubblico quindi io non saprei dire effettivamente come reperire informazioni sulle singole banche soprattutto quelle piccoline su quelle quotate in borsa ci sono e ci sono degli ottimi siti per andare a vedere basta digitare carbon banks ci sono delle campagne che denunciano andando a vedere i grandi progetti infrastrutturali di centrali a carbone, di oleodotti di sfruttamento di attività minerale quindi lì si trovano i dati sui maggiori gruppi bancari per quelle più piccoline è un po' più difficile reperire i dati su alcuni per esempio visto molti commenti facevano riferimento alle banche armate proprio in sito banche armate basta digitare banche armate per andare sul sito della campagna lì si trovano i dati su tutte quelle che sono le banche attenzione che partecipano all'import-export di armamenti la legge italiana di trasparenza sul commercio di armi è un'ottima legge, una delle migliori al mondo ma non copre tutte le armi copre i grandi sistemi d'arma e solo per l'import-export quindi ci sono diverse banche che hanno escluso l'import-export ma continuano poi a erogare credito alle aziende produttrici di armi e poi la legge italiana copre i grandi sistemi d'arma ma non le armi leggere e purtroppo l'Italia è se non il primo tra i primissimi esportatori al mondo di armi leggere che in molti conflitti a bassa intensità nei paesi del sud del mondo sono poi quelli che fanno la stragrande maggioranza delle vittime perché nelle grandi guerre dichiarate sono i sistemi d'arma ma poi pistole e fucili molto spesso italiane sono quelle che poi fanno fanno veramente danni e causano moltissime vittime nei moltissimi conflitti a bassa intensità che ci sono in giro per il mondo Allora io faccio due ultime domande e poi insomma vediamo però sono già le dieci e mezza e allora una arriva da Francesco Barbieri che è un membro del GIT di Banca Etica allora i GIT sono i gruppi di iniziativa territoriale quindi diciamo che è una domanda un po' lui è un socio della banca e dice Eni e Cassa Depositi e Prestiti o meglio CDP Equity hanno costituito una società Green ET partecipata al 51% da Eni e al 49% da Cassa Depositi e Prestiti per investimenti nelle rinnovabili elettriche dicono di voler investire 800 milioni in 5 anni quanto è credibile questa mossa? Parolini? Ma dipende da che cosa intendiamo per credibilità nel senso che allora dobbiamo cercare di ragionare un attimo anche sulle cifre allora la prendo leggermente alla larga ma non ci metto tanto Larry Fink che è il fondatore numero uno del più grande fondo di investimento del mondo che si chiama BlackRock che se non sbaglio ha asset in gestione per 8 mila miliardi di dollari o qualcosa del genere ha scritto una lettera un annetto fa che ha fatto il giro del mondo perché in questa lettera diceva ai propri azionisti fate attenzione perché adesso dobbiamo confrontarci al problema della lotta ai cambiamenti climatici parlando di una crisi lunga e strutturale legata appunto agli stravolgimenti del clima eccetera e nell'ambito di queste azioni che lui promette per cercare per cercare anche di imbogliare altre imprese a lavorare in questa direzione hanno deciso hanno proposto di creare un'iniziativa che hanno chiamato Climate Finance Partnership e queste iniziative hanno detto tra l'altro un pompa magna con la stampa di tutto il mondo che ne ha parlato foto strette di mano eccetera e insomma la dotazione di questa Climate Finance Partnership CFP è stata indicata in cento milioni di dollari però loro dicevano con l'obiettivo di arrivare presto attraverso lo sviluppo insomma anche di altre partnership con imprese eccetera a 500 milioni di dollari ora faccio questo esempio la comunità internazionale alla COP 15 del 2009 a Copenhagen disse guardate che siccome il mondo povero per colpa del mondo ricco si ritrova ad affrontare i cambiamenti climatici senza aver in nessun modo ottenuto dei vantaggi dai cambiamenti climatici perché almeno noi in qualche modo ci siamo arricchiti abbiamo prosperato grazie all'aver bruciato combustibili fossili eccetera loro hanno bisogno di adattarsi ai cambiamenti climatici perché tra l'altro sono loro sfiga vuole quelli che dovranno patirne le conseguenze peggiori sud-est asiatico inondazioni nazioni che spariranno dalle carte nel nel Pacifico mezza Africa che diventerà deserta migrazioni guerre per l'acqua eccetera eccetera ci vogliono dissero almeno cento miliardi di dollari all'anno ogni anno che dovranno essere trasferiti dai paesi ricchi ai paesi poveri ebbene loro propongono cento milioni qui parliamo di ottocento milioni di quest'altra iniziativa che coinvolge anche Reni forse diventano cinquecento è interessante riflettere sul fatto che si tratta di valori estremamente piccoli rispetto al totale di queste degli impieghi e dei finanziamenti che ricevono e dei business e dei fatturati che loro hanno il CFP questo fondo qui di BlackRock il più grande fondo del mondo anche raggiungesse i cinquecento milioni di euro rappresenterebbe meno dello zero virgola zero uno per cento del valore degli asset controllati da questo fondo allora io sono ben contento che facciano queste iniziative perché forse sono simboliche ok allora questo credo che in parte risponda anche alla domanda di Andrea sul quanto incide oggi la finanza etica sostenibile sul totale esistente e invece ad Andrea Barani che è tutto un'Andrea stasera vorrei chiedere ma c'è modo di fermare questo casino come l'hai chiamato della finanza come si potrebbe fare ci sono delle leggi o se non ci sono già si possono fare con quella volontà politica di qui sopra sì sì si potrebbero fare e tra l'altro intanto alcune leggi c'erano e sono state smantellate appunto negli ultimi trenta quarant'anni sull'onda del neoliberismo la finanza si regola da sola e quindi abbattiamo ogni regola e controllo e molti di questi strumenti sono esplosi poi recentemente o relativamente recentemente sempre negli ultimi venti trent'anni e di esempi se ne potrebbero fare molti ad esempio prima avevo menzionato al volo i paradisi fiscali fino a oggi a occuparsi dei paradisi fiscali è l'Ocse che è in qualche modo il club dei paesi ricchi e c'è un report della principale rete della società civile che cerca di contrastare i paradisi fiscali chi è interessato si chiama Tax Justice Network che mostrava come i sui dieci peggiori paradisi fiscali nove erano sotto il diretto controllo di paesi dell'Ocse quindi in pratica si chiede alla Volpe di stare a guardia del Pollaio e sono trent'anni che l'approccio dell'Ocse è inseguire l'isoletta tropicale di turno per prendere la piccola isoletta del Pacifico e dirgli tu devi cambiare quella normativa perché quella consente l'evasione fiscale o l'illusione fiscale in realtà l'approccio che si dovrebbe seguire e come dicevo prima sappiamo cosa andrebbe fatto è una questione di volontà politica farlo è banalmente quello di guardarsi in casa non inseguire l'isoletta di turno perché se io anche obbligo le isole Cayman a cambiare una normativa la mattina dopo Bermuda o Panama o un altro ne ha preso il posto è un mercato è un mercato dell'evasione fiscale è un mercato del riciclaggio un mercato del mettersi a disposizione della criminalità internazionale e quasi tutte le legislazioni che consideriamo tra i peggiori paradisi fiscali del pianeta seguono quasi tutte le normative però in quel quasi si gioca una partita da migliaia di miliardi perché ognuna si specializza in qualche operazione quindi se voglio creare un'assicurazione finta vado lì se voglio nascondere i miei soldi vado là se voglio evadere le tasse c'è quell'isoletta lì però inseguire lo specifico isoletta di turno non ha senso iniziamo a guardare da dove vengono i capitali che finiscono nei paradisi fiscali dove sono le imprese che più ne traggono beneficio dove stanno i grandi invasori perché non iniziamo a guardare in casa nostra allora da 30 anni si discute ma si discute principalmente in ambito accademico e delle reti della società civile di una proposta in inglese si chiama country by country reporting in italiano sarebbe rendicotazione paese per paese ovvero obbligare le imprese multinazionali a pubblicare i loro bilanci suddivisi in ogni giurisdizione in cui operano perché se io sono una multinazionale oggi posso pubblicare un bilancio aggregato se il 99% del mio fatturato lo faccio in Italia ma il 99% delle mie attività finanziarie sono nell'Ictestine e io pubblico solo un bilancio Europa nessuno può vedere nulla se dovessi pubblicare un bilancio suddiviso per paese si vedrebbe immediatamente quanti profitti ho fatto quanto pago lavoratrici e lavoratori quante tasse ho pagato e se queste tasse corrispondono al fatturato e ai profitti che ha fatto questa azienda ora un dato del genere è evidente che tutte le imprese c'è l'anno che in sede di contabilità interna sono suddivisi per giudizizzazione però non devono pubblicare questi dati se ci fosse l'obbligo di pubblicare questi dati sarebbe un passo in avanti decisivo contro evasione e illusione fiscale ma anche contro il riciclaggio e contro molti crimini questo solo negli ultimissimi anni anche a causa o per fortuna della crisi dei debiti pubblici della crisi delle finanze pubbliche finalmente si sta andando avanti è entrato in vigore parzialmente per le banche sta entrando in vigore per il settore minerario estrattivo questo dal punto di vista ambientale è una piccola notizia ma una piccola buona notizia c'è progressivamente cercare di introdurlo in tutti i settori anche qui quello che dicevo all'inizio chiaramente c'è una resistenza fortissima da parte delle lobby da parte dei colossi che ottimizzano il loro carico fiscale è un percorso ancora molto lungo oggi basta pensare ai giganti di internet le big tech come vengono chiamate quasi tutte hanno sede in Irlanda o a Malta e poi considerano le loro filiali in Italia Francia Germania appunto solo delle filiali quindi è la casa madre che realizza gli utili e paga i profitti e la casa madre la metto nel paese in cui gli utili ne pago di meno ma posso farlo in mille modi io posso costituire una compagnia di assicurazione finta e la costituisco alle isole Cayman di turno poi mi assicuro la mia azienda in Italia si assicura contro un'invasione aliena per un miliardo di dollari l'invasione aliena non avviene ma io ho pagato un miliardo di dollari a una compagnia che sta nelle isole Cayman quindi in Italia ho fatto un miliardo e meno di utili e non ci pago le tasse sopra e alle isole Cayman ho fatto un miliardo di profitti ma alle isole Cayman le tasse non si pagano quindi sono meccanismi non sono né legali né illegale è una gigantesca zona grigia come dicevo in cui i capitali si possono muovere ma le normative sono ancora ferme all'idea dello Stato-Nazione probabilmente la cosa che andrebbe fatta più di tutte è introdurre dei controlli sui movimenti di capitale per riportare la finanza a essere almeno molto più di adesso uno strumento al servizio dell'economia e non come vediamo adesso appunto un gigantesco casino o nel migliore dei casi un fine in se stesso per far soldi dai soldi dunque consigli di lettura o film da vedere ne avete io ve ne do due al volo uno ho qui però la chiedizione non con i miei soldi che è stato scritto da Andrea Baranes da me e da Andrea Tracanzan che è collegato anche lui oltre a Ugo Biggeri che è attualmente presidente di Etica SGR ed è un sussidiario per un'educazione critica alla finanza insomma un testo molto basic che però aiuta a capire tante cose che abbiamo detto anche questa sera un altro è Finanza per Indignati se si trova ancora Andrea Baranes però più sì trovare credo si trovi in giro così lo spot pubblicitario personale va bene sui film io mi sento di consigliare sempre la grande scommessa che racconta nello specifico alla storia di il crollo di Lehman Brothers in Mutui Subprime che però aiuta a capire molto bene cosa sono i prodotti derivati come funzionano cosa è stata quella vicenda dei Mutui Subprime ed è una visione anche molto piacevole su un film fatto molto bene non so se Andrea e Andrea avete altro voi da consigliare ah i soldi danno la felicità di Ugo Biggeri assolutamente sì ce l'ho anche quello qui da qualche parte nei miei testi di Andrea Andrea non leggete voi scrivete basta in realtà io avrei avrei proposto ma è facile dire ma avrei avrei proposto la grande scommessa senza altro anche perché poi parla della storia di una persona Nicole Berry che era quello che si è che è stato quello che in qualche modo aveva intuito il crollo dei Subprime capendo che c'era qualche cosa di strano nel in quel modo di gonfiare i prestiti che erano stati concessi anche a persone che non potevano permettersi di più pur di aumentare tutti i costi volumi e che udite udite da qualche anno sta scommettendo sull'acqua acqua che è appena diventata un asset finanziario anch'essa in California non era mai accaduto ma esattamente come per il grano come per il petrolio come per l'oro o qualsiasi altra commodity anche l'acqua adesso è diventata un bene sul quale si può cominciare a speculare sull'acqua ne ha scritto Andrea a novembre su Valori e lunedì uscirà un podcast scritto da Andrea che racconta per l'appunto di come l'acqua è diventata nel quale facciamo pubblicità ci sono anche degli estratti del film La Grande Scommessa quindi andatelo tutti a ascoltare e poi vedo nei commenti ne stanno girando parecchie di ottimi titoli vedo uno di Luciano Gallino vi consiglierei anche Finanz Capitalismo ormai di qualche anno fa ma veramente spiega molti di questi meccanismi molto bene The Wolf of Wall Street con Di Caprio perché sembra che racconti degli eccessi ma purtroppo non sono non è neanche troppo romanzato ovviamente Furore che vuole ci sono dei pezzi su come funzionano o non funzionano le banche che racconta la grande depressione dopo la crisi del 29 è veramente un grande capolavoro anche se bianco e nero tempi passati e poi appunto vedo comunque molti molti ottimi suggerimenti girare tra i commenti della chat che dite ci diamo la buonanotte direi da questo silenzio allora io ringrazio siete tantissime e bello insomma che di giovedì sera siate stati fino alla fine ad ascoltarci temi non proprio facilissimi anzi solitamente la finanza l'economia e la finanza vengono proprio prese percepite come cose difficili complicate da lasciare agli esperti e invece è importante che ce ne occupiamo perché poi alla fine la finanza si occupa di noi e quindi facciamo bene occuparci neanche noi quindi buonanotte grazie grazie e continuiamo a camminare insieme insomma abbiamo tanta strada da fare con un altro grazie